Buongiorno da BTV News. Oggi, 18 maggio, è l'ascensione di Gesù. Ogni anno dal 1977 ICOM organizza a livello mondiale la giornata internazionale dei musei, selezionando di volta in volta un tema specifico. I musei che partecipano all'iniziativa programmano avventi innovativi e attività inerenti al tema prescelto e coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l'importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. Il tema scelto per la giornata internazionale dei musei di quest'anno è Musei Sostenibilità e Benessere, in riferimento ad alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2023 promossa dalle Nazioni Unite. I musei contribuiscono in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità, in quanto istituzioni autorevoli e tasselli rilevanti nel nostro tessuto sociale condiviso rivestono una posizione unica per realizzare ricadute rilevanti al fine di favorire un cambiamento positivo. I musei possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile con diverse modalità, dalla lotta contro il cambiamento climatico alla promozione dell'inclusività, dalla lotta contro l'isolamento sociale al miglioramento della salute mentale.